sono 7 buongiorno benvenuti alla resegna stampa di fano tv siamo puntuali come tutte le mattine dal lunedì al sabato sul canale 17 di fano tv c'è l'informazione c'è la lettura dei giornali titoli delle notizie più importanti selezionate dalla nostra redazione allora diciamo subito che la prima parte di questa rassegna stampa sarà dedicata al Correo Adriatico poi per chi ci seguirà dopo la messa avremo il resto del carlino il resto del carlino questa mattina ancora non ha pubblicato le sue pagine in pdf evidentemente qualcuno non si è svegliato questa mattina allora andiamo a vedere il santo del giorno invece con il cartello San Placido è un discepolo di San Benedetto il sole sorgerà alle 7.13 tramonterà alle 18.47 minuti vediamo il tempo allora cominciamo dal sito di trebimeteo.com queste sono le marche con la previsione per la mattina il pomeriggio e vedete la sera andiamo su domani domani la giornata sarà e si presenterà al mattino completamente soleggiata un po' di nuvole soltanto il pomeriggio e la sera nel dettaglio la protezione civile delle marche invece per oggi prevede ancora pioggia sulla dorsale appenninica e mentre domani ancora qualche residuo piovasco ma poi per il resto ci sarà un miglioramento adesso invece andiamo a leggere i giornali cominciamo dalla prima pagina del Corriere Adriatico il titolo d'apertura è per la casa di riposo inagibile a Monbaroccio fate presto l'appello del sindaco sopra luogo anche di Asur e Regione il drive test invece tornerà in strada dei cacciatori i focolai nelle scuole fanno salire i contagi ieri altri 59 ma la curva dei ricoveri è ancora stabile lo vedremo tra un istante la VL a centro pagina lo sport sconfitta in rimonta da Cantù dopo essere stata in vantaggio fino al 61-55 la VL Pesero è stata sconfitta a Desio dal San Bernardo per 81-72 il calcio Serie C il Fanoce 1-1 la Vis perde 3-1 ma recrimina Pesero festa di genera un giovane finisce accoltellato ad Urbino trovato morto alla Santa Lucia caccia adesso al pusher scovati affano i fondi si ricostruirà l'ex scuola Carducci assisi i vescovi ai politici serve più responsabilità Monsignor Coccia della conferenza episcopale marchigiana dice marchigiani sono stanchi per la ricostruzione che ancora non si vede e allora nelle pagine interne del Corriere Adriatico partiamo dalla situazione della epidemia e dunque un focus sulla nostra regione adesso che la curva di questa epidemia è tornata ad impennarsi scrive Lorenzo Sconocchini questa mattina spinta soprattutto dai primi focolai nelle scuole e dai contagi in famiglia molti si chiedono se siamo appunto a capo dopo due giornate da 59 positivi l'una nelle marche insomma la domanda la domanda clou è se si sta andando verso una nuova fase di restrizioni come è successo ad inizio marzo ma attenzione perché di questi 59 positivi che ci sono stati nella giornata di ieri guardate come sono suddivisi ecco rifacciamo la pagina bianca così andiamo a sottolinearlo insieme allora 59 abbiamo detto i positivi ieri 35 casi emersi dagli screening in ambito scolastico 25 contagi domestici e 13 in ambienti legati al divertimento ed ecco anche il motivo per cui anche a livello nazionale si va verso le mascherine obbligatorie anche all'aperto un po' come è avvenuto dopo la firma di Acquaroli nella nostra regione però ci sono delle differenze rispetto a marzo di inizio anno e sono delle differenze importanti chiaramente perché per esempio adesso si fanno molti più tamponi 1321 e 1122 nelle ultime due giornate quindi su 1321 oppure 1122 sono venuti fuori 59 positivi che abbiamo visto poco fa mentre nella prima decade di marzo si viaggiava ad una media di circa 200 al giorno perché i kit per i test lo ricorderete scarseggiavano e dovevano garantire gli esami soprattutto nei pre-triage quindi negli ingressi al pronto soccorso e se adesso la percentuale dei positivi viaggia tra il 3 e il 5% sul totale dei campioni esaminati ogni giorno nelle prime due settimane dell'epidemia c'erano giornate in cui i tamponi positivi erano addirittura 4 su 10 e poi c'è il discorso dei ricoverati ricoverati un paziente su 4 soffriva di polmoniti da Covid-19 così gravi tra l'altro da richiedere il ricovero di terapia intensiva a Marche Nord quindi a Pesaro e oggi in realtà i numeri sono diversi ieri su 941 positivi attuali persone con infezione corattiva solo 30 avevano bisogno di un ricovero e 6 pazienti sono nelle terapie intensive come è successo appunto nella giornata di sabato quindi come vedete i dati sono completamente diversi certo è che però insomma dobbiamo stare davvero molto attenti perché come abbiamo visto i contagi il numero dei contagi è in risalita andiamo ad Assisi invece il titolo sempre dal Corriere Adriatico Assisi monito dei Vescovi ai politici marchigiani stanchi delle parole Acquaroli dice impegno sul terremoto il governatore e i sindaci alle due giorni di celebrazione per San Francesco la lampada votiva alimentata dalla Mancinelli Vescovo di Ancona è la quinta volta in 74 anni ecco la fotografia di questa importante accensione che è stata fatta per la prima volta che è stata fatta anche la prima accensione del 1946 e la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli a nome di tutti i sindaci italiani ha versato nella lampada l'olio donato dalle Marche e ha acceso la lampada che arde perpetuamente accanto alla tomba di San Francesco molti sindaci marchigiani presenti alle celebrazioni per il Patrono d'Italia tra i quali quello di Pesaro Matteo Ricci quello di Fano Massimo Seri di Osimo insomma tanti altri le Marche hanno avuto l'onore di accendere la lampada nel 1946 nel 1965 nel 1982 e nell'anno 2000 a vent'anni di distanza dunque tornano ad Assisi per la quinta volta e insomma è stato un momento tra l'altro un momento difficile per tutti un momento molto importante allora commissari per la salaria Efano Grosseto il Premier pronto a firmare le nomine vicina alla svolta per le infrastrutture marchigiane che sono inserite nel decreto semplificazioni forse questa è la volta buona per far uscire le marche da un isolamento infrastrutturale che si è fermato a 50 anni fa il Premier Conte ha annunciato che sarà questione di ore la firma per sbloccare le opere contenute nel decreto semplificazioni compresa la nomina dei commissari per le arterie da portare a termine utilizzando il modello Genova forse la volta buona dunque anche per l'incompiuta a Fano Grosseto a nord della regione e per l'adeguamento della salaria invece nella zona sud delle Marche e poi per quanto riguarda invece la casa di riposo di Monbaroccio la Bricciotti la Bricciotti che come sapete è inagibile si intervenga subito per limitare i disagi in campo scendono Asur e Regione per la RSA chiusa dopo l'allarme per dei cedimenti atteso sopra luogo alla struttura che anche tre anni fa era stata comunque già sgomberata l'appello del Sindaco Petrucci le decisioni non dovranno gravare su cittadini ed utenti sulla pagina 7 invece Sanità i sindacati in agitazione il prefetto convoca i vertici dell'Asur incontro fissato per mercoledì si cerca la conciliazione l'avviso del fronte RSU intanto il sindaco Matteo Ricci dice il drive test torna in strada dei cacciatori già date le indicazioni per spostare alcuni uffici mascherine tante richieste di chiarimenti centralino della polizia locale bollente ieri mattina per richieste di chiarimenti sull'ordinanza regionale che estende l'obbligo delle mascherine H24 all'aperto nelle zone nei punti a rischio assembramenti a conti fatti un'estensione della precedente ordinanza già in vigore che copriva però la fascia serale a partire dalle 18 in tanti però hanno avuto la necessità di ottenere delucidazioni e per diverso tempo i telefoni del comando di Via del Monaco sono stati presi d'assalto dagli utenti con domande del tipo ma se passeggio per strada da solo devo metterla se vado in bicicletta e vabbè sempre ieri mattina alcuni volontari della protezione civile nella zona di Piazza del Popolo dove erano in corso della festa dei fiori invitavano i passanti ad indossare la mascherina in presenza di più persone si ricorda che la sanzione è una sanzione insomma pesante perché 400 euro però visto che ci torneremo anche noi è chiaro che ci si tornerà perché non basta una volta non bastano dieci volte non bastano mille volte al giorno ricordare le stesse cose ma insomma siamo qui anche per questo allora è chiaro che se uno passeggia per strada da solo e non c'è pericolo di assembramento è inutile che indossa la mascherina se è all'aperto la mascherina va utilizzata nel momento in cui si è all'aperto ma ci sono più persone quindi fuori dai locali in una festa in una fiera non una festa scusate in una fiera tipo quella dei fiori andava indossata la mascherina se uno sta che ne so in attesa di entrare in un ambulatorio medico fuori dalla porta e ci sono dieci persone lì e va indossata la mascherina ecco queste sono le regole poi il distanziamento è importante anche il distanziamento all'aperto e poi come abbiamo detto la terza cosa la terza alma che abbiamo è quella dell'igiene personale quindi igienizzarsi le mani lavarsele il più possibile quando uno ha la possibilità o comunque quando uno tocca delle cose fa delle cose se uno sta dentro casa e guarda la televisione dalla mattina alla sera non è che ogni 5 minuti deve andare al bagno a lavarsi le mani lo dico perché succede anche questo ecco questo per dire un po' le cose e comunque adesso c'è un'ordinanza per cui la mascherina o il torto collo dobbiamo metterla quando siamo in quelle condizioni perché altrimenti si rischia una multa di 400 euro e le stanno iniziando a fare quindi è importante saperlo andiamo a Senigallia perché oggi si vota ancora per eleggere il nuovo sindaco nel ballottaggio Volpini e Livetti si decide affluenza in calo 40,5% alle 23 di ieri 46,7% al primo turno oggi ultime ore dunque per votare ma l'assenteismo è stato il protagonista della prima giornata di ballottaggio con percentuali più basse di affluenza rispetto al primo turno alle 23 votato il 40,5 e quindi 6% in meno rispetto al primo sono 38.801 i senigalliesi chiamati a scegliere il sindaco che dovrà guidare la squadra di governo per i prossimi 5 anni la scelta è tra il centro-sinistra di Fabrizio Volpini e il centro-destra di Massimo Olivetti stasera nel telegiornale o comunque sui social poi sul sito internet vi diremo nel corso del pomeriggio chi avrà vinto tra i due a Fano il Corriere Adriatico titolo d'apertura per Avis Avis che tinge di rosso il centro storico grande corteo per i 70 anni di vita della sezione fanese fino alla piazzetta intitolata ai donatori di sangue lotta al Covid raccolte 95 sacche di plasma iperimmune il presidente Savelli dice ai volontari sono 2.600 sotto invece zona a traffico limitato il cuore in tutto il cuore cittadino via Cavour compresa una mozione bipartisan approvata in consiglio e dunque l'accesso sarà limitato soltanto per poche persone scuole a rischio sismico sempre da Fano ecco altri 20 milioni l'ex Carducci si potrà demolire e dunque ricostruire l'emendamento approvato in commissione bilancio allarga la graduatoria includendo il Nolfi dice il fanese Roberto Rossini deputato dei 5 Stelle promotore della correzione al decreto d'agosto che permetterà dunque di ricostruire l'ex scuola Carducci attenzione alle telefonate promozionali quelle che si ricevono a sfinimento ogni giorno anziani a rischio raggiro un operatore di settore mette in guardia le famiglie occhio al bonus sociale la festa in campagna degenera a Pesaro e un giovane finisce accoltellato il 21enne al pronto soccorso con due tagli alla schiena la squadra mobile indaga tra le comitive presenti inizialmente il ragazzo ha raccontato di essere caduto su alcuni ferri appuntiti l'idea di una nuova pista ciclabile a costeggiare il corso del Genica servirà a collegare Muraglia e il parco Scarpellini all'area del cimitero centrale a Monte Ciccardo oggi si svolge invece la cerimonia di giuramento il Presidente Bonazzoli guiderà il municipio oggi pomeriggio alle ore 17 ci sarà anche il Sindaco di Pesaro Matteo Ricci che poi stasera subito dopo verrà qui in studio per primo cittadino quindi nella sua agenda il Sindaco immaginiamo terminerà la sua giornata qui in diretta per rispondere ai telespettatori pesaresi che salutiamo e sappiamo essere tantissimi anche a seguirci ogni mattina la targa intitolata Craxi sempre a Pesaro finisce ancora nel mirino con un volantino questa volta di protesta dunque non c'è pace decisamente per la targa che intitola Bettino Craxi Giardini di Piazzale Matteotti dopo la contestata inaugurazione di quest'estate e dopo i successivi episodi di danneggiamento e vandalismi che si sono susseguiti anche nella notte tra sabato e domenica qualcuno non ha mancato di esprimere il suo disappunto attaccando sulla targa un volantino che chiaramente anonimo stigmatizzava l'intitolazione voluta dal sindaco Matteo Ricci appunto a Bettino Craxi andiamo avanti ancora dal Corriere Adriatico da Vallefoglia Vitri e Biancani Brindisi e Bancali i due neoconsiglieri regionali hanno ringraziato 200 intervenuti con una cena in un'azienda di Vallefoglia il sindaco Cucchielli ha detto premiate le persone Ricci soddisfazione pur nell'amarezza Micaela Vetri Micaela un valore aggiunto sotto invece uniti ed ecco sostenibili per evitare l'effetto meridione incontro tra esperti durante la fiera di San Michele sulle strategie per la ripresa da Urbino trovato morto nel bagno del Santa Lucia overdose per un 57enne adesso è caccia al Puccia cioè a colui che ha spacciato ha venduto la droga a questa a questa persona che poi è morta il ritrovamento sabato notte disposta all'autopsia al setaccio i filmati della videosorveglianza del centro mentre la cittadinanza onoraria Ducale ad Alberto Angela grazie a Raffaello un'interrogazione dei consiglieri Cangini Giorgio e Luca Londei Alberto Angela molto noto figlio di Piero cellulare in tilta Pecchio triangolo delle Bermuda crescono le proteste chiamate non risposte ma il telefono non squilla da Pecchio telefonini capricciosi con diverse strade estranee anzi patologie con la team Telecom che fa orecchie da mercante da questo cappello che si rovesciano decine e decine di proteste degli apecchiesi con gli operatori del 187 Valcesano la nuova piazza di Orciano unisce il passato al presente l'inaugurazione è il primo passo di un progetto più complesso di valorizzazione poi una settimana di iniziative per i 40 anni della parrocchia a Tavernelle la comunità in festa con l'impartizione del sacramento della Cresima e le celebrazioni di Monsignor la celebrazione di Monsignor Giuseppe Orlandoni vescovo emerito di Senigaglia ieri iniziata Tavernelle di Sarungarina la festa del 40esimo della parrocchia che derogherà tutta la settimana questa sera alle 20 e 30 c'è anche la preghiera per le famiglie Tari Leggera San Costanzo come funziona per le attività per l'agevolazione occorre presentare la richiesta al comune siamo alle pagine sportive il Fano mostra il petto Fano che pareggia in casa uno a uno contro il Padova altro punto pesante bella prestazione di Granata che tengono testa anche al Padova si era detto che l'inizio era difficile insomma Perugia pareggio Padova pareggio se il buongiorno si vede dal mattino direi che siamo a buon punto i Veneti vanno in vantaggio con della latta e poi nella ripresa Barbuti pareggia su rigore poi sul Corriere troverete anche in questa giornata le pagelle le pagelle dei giocatori e poi la seconda pagina dedicata all'Alma è per le considerazioni del dopo partita la strada è quella giusta dice l'allenatore Alessandrini soddisfatto della prova di carattere del Fano non era facile contro questo Padova detto siamo contenti per questo avvio di campionato a dispetto di un calendario ecco come dicevo sicuramente in salita eccolo qua Marco Alessandrini l'eroe che ha salvato il Fano l'anno scorso e che adesso lo sta portando comunque lentamente in alto anche se siamo alla seconda partita di campionato mentre sulla sulla pagina che sulle due pagine che riguardano la Vispesero la Vispesero ha perso a Modena 3 a 1 Vis tra Beffer impianti cade a Modena nel secondo tempo il gol fantasma di Marchi sull'1 a 1 grida vendetta sprecate quattro occasioni per entrare in partita al Braglia oltre ad una rete annullata ma non è tempo andiamo sull'altro titolo guai a trovare alibi Galderisi l'allenatore non si appella al gol fantasma recriminare è da perdente orgoglioso dei miei ragazzi abbiamo commesso qualche ingenuità ma soprattutto siamo mancati in concretezza davanti adesso invece andiamo a vedere sul campo sul parquet della VL anche la VL non è andata bene ha perso contro San Bernardo Cantù 81 a 72 la VL si ferma troppo presto Cantù sorpassa ringrazia e vince un'altra incompiuta per la Carpegna Prosciutto che a Desio crolla nel finale e resta a 0 stavolta si salva solo Cain anche Robinson non va Repesia fa autocritica Pancotto invece ringrazia e sempre dalle Marche c'è un'altra marchigiana che però questa volta nella massima serie della Pallavolo ha vinto ma ha vinto per il rotto della cuffia con 3 punti a 2 contro la Consar Ravenna e questo è il punteggio finale tra la Lube e Civitanova Lube che fatica ma il tie break stavolta è ok Ravenna resiste bene per 5-7 ai civintanovesi mercoledì sera la sfida col Trento che ieri ha perso e adesso andiamo a vedere il resto del Carlino apriamo con la prima pagina di Pesaro sangue alla festa giovane accoltellato questa è l'apertura Moldavo di 21 anni aggredito da un coetaneo napoletano ricoverato al San Salvatore però non vuole denunciare a centro pagina un repeggio un po' sconsolato la VL va in tilt ultimo quarto da dimenticare vince Cantù espulso l'allenatore mentre sulle mascherine mascherine ovunque tornano i controlli si parte dai locali la municipale di Pesaro in azione e poi la festa del patrono ad Assisi Coccia l'arcivescovo di Pesaro il presidente come abbiamo visto della conferenza episcopale marchigiana che dice sisma e covid più impegno sotto invece anzi di spalla qui a destra Fano l'It davanti al bar tra ragazzini residenti inferociti ora basta poi liceo Nolfi sempre a Fano ad una svolta pronti 7 milioni di euro per demolire e ricostruire l'ex Carduce a Urbino invece la cronaca trovato morto a 57 anni in una toalette ipotesi overdose e poi il lutto se ne è andato il compagno Fausto una vita tra mille passioni si parla ovviamente della lotta al covid nelle pagine del resto del carino anche quelle nazionali mascherine sempre feste le mascherine sempre e feste a numero chiuso il governo accelera la stretta sui controlli il giro di vite scatterà subito se i nuovi positivi non torneranno sotto i 2000 casi ieri altri 2.578 contagiati in tutta Italia mercoledì intanto arriva il decreto intanto il vescovo di Caserta non ce l'ha fatta lo vedete in questa fotografia si era ammalato di covid e purtroppo è deceduto tra le varie cose da fare come sempre le protezioni all'aperto i limiti orari e le persone nei locali probabilmente si andrà verso una chiusura anticipata per evitare assembramenti l'esercito che scende in campo mini lockdown per spegnere i focolai e restrizioni anche su bus e aeree andiamo invece sulla pagina di Pesaro del Carlino mascherina all'aperto e nei locali non si sgarra controlli a tappeto della polizia locale setacciati gli esercizi commerciali dunque bar negozi ristoranti pasticcerie la polizia municipale di Pesaro sta passando al setaccio tutti gli esercizi commerciali della città per verificare il rispetto delle norme anti covid dopo un generalizzato rallentamento delle attenzioni durante l'estate dunque il fronte adesso dei controlli riguarda l'utilizzo della mascherina all'aperto dopo la decisione regionale di imporre l'uso in caso di assembramento di fatto in ogni contesto pubblico si deve indossare la mascherina lo abbiamo già detto all'inizio della nostra rassegna stampa e lo abbiamo visto anche alla manifestazione dei fiori in piazza del popolo a Pesaro con centinaia di persone che si muovevano tra le bancarelle indossando appunto la mascherina di tipo per lo più di tipo chirurgico come scrive il giornale anche oggi però e nei prossimi giorni i controlli delle forze dell'ordine si concentreranno su bar ristoranti ritenuti punti di maggior pericolo contagio da parte dal covid problemi a largo Aldomoro in via Nazareusauro sempre sul Carlino di questa mattina assembramenti in zona mare in certi locali serve lo sfollagente c'è stato un intervento della polizia ieri pomeriggio dopo la mezzanotte scusate ieri sera dopo la mezzanotte al bar Zanzibar di largo Aldomoro sono arrivate molte chiamate al centralino delle forze dell'ordine per l'assembramento che si era venuto a creare con tantissimi giovani che non indossavano le mascherine così all'arrivo della polizia c'è stato un dileguarsi di tanti ma anche un adeguarsi di altrettante persone alle misure anti-assembramento quindi distanziamento ma soprattutto mascherine quindi questo è un po' quello che succederà anche nei prossimi giorni con immaginiamo persone diligenti che chiamano le forze dell'ordine quando vedono assembramenti e di conseguenza poi persone che invece vengono controllate e che dovranno necessariamente adeguarsi e mettersi in testa che servono le mascherine o il distanziamento intanto virus nelle marche tornano a livelli di aprile le marche tornano a livelli di aprile registrati 59 contagi solo 8 però in provincia di Pesaro e Urbino diciamo che la maggior parte delle persone contagiate dei positivi questa volta riguardano altre province abbiamo visto macerate in particolare e poi la provincia di Ancona notte d'inferno in centro invece arrivano i carabinieri i residenti di via Pili siamo a Fano protestano contro un bar che richiama decine di ragazzini che fanno schiamazzi la titolare dice io non ho colpe però il fatto è che come scrive Roberto Damiani questa mattina si registrano schiamazzi urla litigi qualcuno dice aver visto un coltello in mano ad un ragazzo e consumo di alcolici fino a notte fonda i residenti di via Pili a Fano si sono attaccati al telefono ieri notte chiamando carabinieri vigiurubani polizia e giornali una signora che abita in un appartamento antico al bar delle scienze dice non ne possiamo più siamo prigionieri ogni sabato sera e anche il venerdì di questi schiamazzi che ci rendono la vita impossibile l'accusa servono alcolici ma la barista dice ribatte sì ma solo alle persone maggiorenni viene trovato morto invece nei bagni del centro commerciale a Urbino al parcheggio di Santa Lucia per il 57enne non c'era stato nulla più nulla da fare intanto gli auguri di Paolini presidente della provincia Ricci sindaco di Pesaro al neoretore Calcagnini il professor Giorgio Calcagnini a lui migliori auguri di buon lavoro alla guida dell'Ateneo Urbinate con l'auspicio di una fattiva collaborazione anche nell'ottica di valorizzare le molteplici vocazioni del territorio provinciale in una sempre maggiore sinergia tra mondo della scuola università ed aziende accoltellato alla schiena sempre dal Carlino durante una festa è accaduto nel prato di una proprietà vicino al poligono ferito un moldavo di 21 anni aggredito da un campano nel corso di una risa il giovane non ha sporto denuncia ai medici anzi ha detto di essere caduto sisma e covid anatema di coccia più impegno il vescovo di Pesolo da Sisi per la celebrazione per il patrono d'Italia ha parlato di una regione sempre più insofferente per i mancati interventi dalle marche l'olio votivo per alimentare la lampada sulla tomba del poverello di Francesco i tamponi la scelta di Ricci il drive test a Villa Fastigi confermata la vecchia collocazione in strada dei cacciatori e con questo chiudiamo qui la nostra segna stampa grazie per averci seguito a voi tutti l'augurio di una buona giornata ci vediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale subito dopo invece ritorna primo cittadino ospite Matteo Ricci il sindaco di Pesaro arrivederci di Pesaro di Pesaro Autore dei sovrapposti